Non lo vuoi capire che ci hanno staccato la spina? È Lino Banfi il protagonista della nuova puntata di Effetto Notte. L'attore racconta la sua carriera lunga e il suo ritorno al cinema con il film Vecchie Canaglie. E poi, la serata dei Davidi Donatello 2022. Mi sembrava un'ottima annata. Parlano i vincitori, da Sorrentino a Tornatore, da Teresa Saponangelo a Silvio Orlando. Questo e molto altro a Effetto Notte, venerdì alle 23. Grazie a tutti.